VITAMOZUO gruppi telegram fissati nel primo commento quindi easy footer shock poi dopodichè ragazzoli abbiamo bisogno del veicolo che vogliamo ovviamente sacrificare quindi utilizzerò una LG RH8 e la vado a mettere direttamente nella mia officina dell'arena ok quindi più LG vado ad acquistare e ovviamente più veicoli ho da sacrificare a questo punto ragazzoli abbiamo bisogno anche di una moto che si chiama FCR1000 la andiamo a mettere sempre nell'officina dell'arena e ci servirà per glitcharci ok questa moto ci serve solo per glitcharci e per un'altra cosa che poi andiamo a vedere anche dopo allora ragazzoli una volta che abbiamo questi requisiti dobbiamo avere anche il rientro come officina dell'arena se non ce l'avete le ho impostate poi fate un cambio stile o un cambio accessorico come ho fatto io io vado a cambiare prima l'accessorio e ovviamente poi vado a fare anche un cambio stile per stare molto più tranquillo ok quindi ragazzoli questi sono i requisiti a questo punto possiamo iniziare seguite bene il video perché è veramente semplice ma dovete fare soltanto poca attenzione allora andiamo verso la moto saliamo con un triangolo a questo punto ragazzoli premiamo freccia a destra andiamo nell'officina allora fate bene attenzione a questa parte dobbiamo premere una volta X una seconda volta X dopodiché ragazzoli questo trick ve l'ho già portato sul canale dobbiamo premere X e tenere premuto il tasto PS su old gen ok next gen sarà X e poi ovviamente tenere premuto comunque premere il tasto PS è veramente facilissimo io ve l'ho portato all'epoca con un option ma con il tasto PS è ancora più facile quindi sulla schermata questa schermata tenete premete X vedete il flash e tenete premuto il tasto PS adesso ve lo faccio anche vedere quindi X subito tasto PS premuto vi uscirà il menu rapido a questo punto ragazzoli rimanete con la finestra e ovviamente il custom ancora da modificare e la moto invece già modificata spammate X e avete glitchato la moto è veramente semplicissimo a questo punto ragazzoli saremo già pronti ovviamente per andare avanti e per fare la duplicazione ci siamo già glitchati prendiamo la Easy Futureshock quindi il veicolo che vogliamo duplicare e la andiamo a stituire con un veicolo da significare quindi la LG RH8 a questo punto ragazzoli abbiamo già fatto la prima duplicazione per salvarla dobbiamo fare una modifica alla matrice quindi alla Easy ok Easy Futureshock a questo punto ragazzoli freccia destra ovviamente andiamo a fare una modifica che siano armature freni senza toccare ovviamente le parti comunque maxate o moddate del veicolo io infatti vado a fare sui freni anche perché è quello che costa di meno a questo punto esco dall'officina ok e siamo pronti per fare già la seconda copia quindi come si fa la seconda copia allo stesso identico modo torniamo ovviamente al pallino blu dobbiamo andare a selezionare prima la Easy Futureshock dopo andiamo a selezionare un'altra LG e abbiamo già fatto una seconda copia tempo 0 facilissimo da fare e tempo 0 andiamo a fare ovviamente un'altra modifica alla Easy Futureshock a questo punto avremo già fatto la seconda copia allora ragazzi fate bene attenzione queste copie che andiamo a fare porteranno tutte quante la stessa targa ma io vi faccio vedere anche il metodo in questo video come fare anche la targa pulita completamente pulita ok qua abbiamo fatto la modifica siamo ritornati all'officina adesso andiamo a fare una targa completamente pulita ok cosa significa la targa completamente pulita quindi una targa che ancora noi non abbiamo nell'account andiamo a prendere sempre la Easy Futureshock ok una Easy Futureshock questa volta però la andiamo a sostituire ad esempio con la FCR1000 può essere la FCR1000 come può essere un'altra LG ok abbiamo fatto la copia a questo punto ragazzuoli fate attenzione questa parte perché è differente dall'altra volta da prima ok saliamo sull'Easy Futureshock andiamo a premere freccia destra a questo punto ragazzuoli senza fare nessuna modifica guardate bene la targa 149 finale usciamo dall'arena ok 401 finale quindi è cambiata la nostra targa abbiamo fatto una targa completamente pulita solo che questa per salvarla ci serve il centro operativo mobile ma se fate tutte le duplicazioni in questo modo significa che voi andate a prendere sempre una targa pulita ma quelle che abbiamo fatto prima non vi preoccupate non si sono perse ovviamente saranno sempre copie salvate all'interno dell'arena allora questa qua ovviamente la andiamo a salvare all'interno del centro operativo mobile io ho richiamato il centro operativo mobile la vado a salvare al suo interno e infatti dopo andiamo a fare proprio la prova per vedere se nell'officina dell'arena ci sono ancora i nostri veicoli quindi sono due metodi per fare duplicazione io vado a cambiare sessione all'interno del centro operativo mobile respawnerò all'interno ovviamente dell'officina dell'arena e mi controllo i miei veicoli ovviamente avrò i miei veicoli questa è l'unica con la targa differente le altre tre che abbiamo fatto prima ovviamente avranno tutte la stessa identica targa quindi 149 questa è una poi andiamo a vedere anche le altre 149 anche la seconda matematico allora ragazzoli vi dico solo una cosa se volete ovviamente dei suggerimenti dei consigli su come fare le vendite quando ci sono le targhe uguale oppure quando avete una targa pulita vi consiglio di entrare nei gruppi telegram perché ci sono i miei amministratori dei gruppi telegram che sono apposta lì per aiutarvi quindi entrate lì adesso ragazzoli andiamo a controllare invece il veicolo che abbiamo lasciato nel centro operativo mobile quindi il nostro veicolo con la targa pulita quindi vado a richiedere ovviamente il mio veicolo con la targa pulita aspetto che me lo consegna il meccanico e ragazzuoli guardate qua appunto abbiamo il nuovo veicolo con la targa pulita pronto per essere duplicato ragazzuoli se è piaciuto questo video lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video bella grazie a tutti grazie a tutti